Torniamo insieme per l'ultima parte, ridare e avere il momento della rubrica che realizziamo in collaborazione con Q Consulenze Finanziarie. Ancora un appuntamento con gli esperti dello studio Q Consulenze Finanziarie e con Antonello Cattani. Questa volta parliamo di un argomento che può influenzare anche le scelte dei risparmiatori italiani, cioè il possibile aumento dei tassi negli Stati Uniti. Qual è la situazione in questo momento? Il primo aumento c'è stato già un anno fa, dopo la crisi del 2008, quindi i tassi erano stati mantenuti vicino allo zero e un anno fa la Banca Centrale Americana aveva effettuato il primo aumento. Quest'anno, considerando che lo stato di solito dell'economia americana sembra essere buono, già a giugno si parlava di un altro possibile aumento, si era parlato di settembre, poi è stato rinviato e i dati delle ultime settimane, quindi usciti a fine novembre, confermano il buono stato di salute dell'economia americana, quindi con un PIL rivisto a Rialzo oltre al 3%, quindi al di là delle aspettative. Quindi è ormai quasi certo che la Banca Centrale Americana procederà qui a dicembre, prima della fine dell'anno, a un ulteriore aumento dei tassi, quindi dallo 0,50 allo 0,75. E quali possono essere le conseguenze allora di questa manovra? Le conseguenze diciamo a livello, vediamo in questa diapositiva, il rendimento dei tassi americani, dei tassi di investimento, quindi i titoli di Stato americani, che hanno visto già sull'aspettativa di questo aumento, come si vede da questo grafico, un'impennata nei rendimenti, quindi impennata nei rendimenti vuol dire maggiore rendimento per chi deve investire, ma un calo delle quotazioni dei titoli, quindi questo ha una doppia valenza. Un'altra conseguenza abbastanza importante che può avere un riflesso più ampio è quella dei cosiddetti paesi emergenti, cioè in questi anni, in ultimi due o tre anni con i tassi a zero, molti paesi, Cina, Brasile, per fare dei nomi, si sono fortemente indebitati in dollari e approfittando dei tassi bassi, quindi adesso un aumento dei tassi, quindi è un possibile anche rafforzamento del dollaro, potrebbe avere conseguenze negative per questi paesi che hanno un debito molto alto, quindi che devono ripagare a tassi più alti in più con un cambio sfavorevole, quindi a livello internazionale ci può essere questa doppia conseguenza negativa. E invece per i risparmiatori italiani le conseguenze quali sono? Se vediamo questa alta diapositiva, vediamo come già sull'aspettativa, ma qui ci sono anche altri fattori, il famoso spread tra titoli italiani e titoli tedeschi, anche in questo caso, ha conosciuto un innalzamento proprio sull'aspettativa di un possibile aumento dei tassi anche a livello mondiale, quindi questo può essere una prima conseguenza. L'altra, se andiamo a vedere questa ultima diapositiva, vediamo l'andamento della borsa italiana nell'ultimo anno, quindi da quando è stato fatto l'ultimo aumento la borsa italiana ha avuto un calo anche abbastanza importante, non dovuto solo a quello, perché ci sono poi altri fattori, però di solito l'impatto sui mercati finanziari non ha un effetto positivo, quindi il consiglio è sempre quello di mantenere molta prudenza per due motivi. Primo perché avere, ad esempio, obbligazioni lunghe potrebbe causare delle perdite in conto capitale, proprio per il discorso che dicevo prima, e secondo perché un possibile aumento dei tassi a livello internazionale potrebbe avere anche delle nuove opportunità future, quindi si può investire a tassi più alti nei mesi che verranno. Quindi prudenza, non avere fretta e aspettare un po' l'evoluzione di questa situazione.